Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità occorre potenziare i servizi territoriali. La manifestazione regionale per la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che si è svolta all'Urban Center di Siracusa su iniziativa dell'autorità della regione garante dei disabili, la neuropsichiatra infantile Carmela Tata e del Co-Prodis di Siracusa che comprende l'associazione della nostra provincia e che è preseduto da Lisa Rubino, ha acceso il riflettore sullo stato della disabilità in Sicilia. A salvo Sorbello, riconosciuto esperto di politica sociale e già responsabile nazionale dei comuni italiani per le politiche familiari è stato affinato il compito di coordinare i lavori di una giornata che ha visto interventi assai qualificati. In apertura il ministro per le disabilità Alessandro Locatelli con un suo videomessaggio ha messo in luce l'importanza dell'incontro. Il ministro ha rivolto un appello condiviso in sostanza anche dal neoassessore siciliano alla famiglia Annuncia Albano a garantire la massima tutela alle famiglie che amano e curano i propri cari con disabilità tenendo in particolare considerazione ai bambini e agli adolescenti che hanno il diritto di essere educati, istruiti e formati perché possano avviare un percorso di inclusione nella vita sociale e lavorativa. L'incontro di Siracusa ha servito a ribadire che il concetto di qualità della vita riferito alla persona con condizioni di disabilità rappresenta una rivoluzione culturale nella valutazione dell'utilità delle pratiche sociali ed educative e sanitarie. A Siracusa è stato fatto un annuncio molto importante per ottenere risultati soddisfacenti in materia di progetti di vita individuali e consapevoli delle difficoltà dei servizi che devono operare. In tal senso l'assessorato regionale della famiglia individuando le criticità nella carenza di personale nella formazione ad hoc sta organizzando sul proposto della garante regionale Tata uno specifico corso di formazione. Grazie a tutti.